Buonasera, notizie dall'interno. Tutto il mondo si sta chiedendo come mai io non sono presente in tutte le edizioni di tutti i tg di tutte e tre le reti ed è presto detto il mio estetista, ciao Achille, il mio estetista dicevo mi ha sconsigliato di rimanere sotto i riflettori per più di un'edizione alla settimana altrimenti mi si rovina questo perfetto incarnato e sono guai per tutti perché come farei a schiacciare la concorrenza? Michigan, il signore e la signora Jones alle ore due di notte ora locale hanno provocato sul sedile posteriore della loro auto una fusione nucleare, scienziati di tutto il mondo stanno ripercorrendo il laboratorio alle fasi dell'esperimento ma ritengono che lo stesso fenomeno possa verificarsi solamente tra persone dotate di una particolare energia, mi sono fatta malissimo ma non importa sono sempre qui tra voi, parte ora un servizio su droga e televisione che è l'accoppiata vincente degli anni 90, il servizio parte da qui